E ciao ragazzi e benvenuto a tutti in questo nuovo video, sono Manobomber e oggi siamo qui su Marvel Snap perchè signori, oggi in evidenza c'è il campo Camartage e quindi noi andremo a ritirare fuori il mazzo Odin infinito con qualche piccola modifica Prima di procedere però vi chiedo un bel like al video, un bel sugo al canale se ancora non l'aveste fatto, è davvero fondamentale per supportare questi contenuti grazie davvero di cuore a tutti quelli che lo faranno e allora andiamo insieme a vedere il mazzo un mazzo molto semplice da usare ragazzi con Wong abbiamo Iron Heart, abbiamo Psylocke, abbiamo White Tiger per ovviamente andare a riempire di tigri i campi abbiamo Storm per bloccare un campo all'avversario e ovviamente ragazzi abbiamo Odino in questa variante mega galattica signori andiamo subito a provare il mazzo partiamo subito eccoci qua allora mazzo Odino infinito vediamo un po' cosa ci riserva l'avversario signor Joe signor Joe vediamo un po' gli effetti della scoperta sono raddoppiati in questo campo Iceman Iceman The Hood ragazzi questo è un mazzo che mi dà fastidio dopo il terzo turno aggiungi una roccia all'unità del giocatore ok Psylocke Psylocke assolutamente sarebbe Wong Iron Heart Demone Iceman ok perfetto ragazzi proprio perfetto questo è un gioco perfetto eh ragazzi come si fa a giocare così non si può giocare ragazzi così demone forge Iron Heart Scorpion Wong gli effetti della scoperta sono raddoppiati in questo campo e quindi Scorpion per forza We're Wolf mamma mia che mazzo che c'ha lui ho White Tiger Nico Minoru Beast attenzione ragazzi eh a questa cosa però lui c'ha priority così ok lui c'ha prio chi deve aprire questo campo può liberare una carta di costo 6 e il suo costo diventa 0 ok a me non ci interessa e lui lo sposta qua We're Wolf no eh per forza pensiamo allora se metti Wolfsbane no bisogna mettere Odino perché ovviamente noi con Iron Heart andiamo anche a potenziarci tre carte e bisogna deve andarci bene no vediamo ovviamente ovviamente cnull carta più inutile da avere in questo momento sentry ragazzi se ci potenzia la tigre eh ovviamente non ci potenzia la tigre ragazzi eh vabbè eh ragazzi vabbè c'è andata di lusso comunque c'è andata di lusso che la tigre è andata a destra non mi è piaciuta per niente la sua giocata non mi è piaciuta per niente la sua giocata doveva lasciare We're Wolf a destra però perdeva lo stesso di un punto eh signori il mazzo Odino infinito è il mazzo Odino infinito troppo forte ragazzi troppo forte il mazzo Odino infinito e andiamo avanti andiamo avanti secondo secondo round vediamo un po' perché io vorrei farvi vedere una combo mega galattica dove diventi fortissimo aggiungi una carta di costo tre alle mani di ogni giocatore ma a noi non ci interessa Iceman via con Iceman andiamo 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 ovviamente con Storm potremmo eh va bene vediamo che carta gli è uscita in mano per snappare così facilmente dai ma perché ci mettono otto ore a fare tutto oh Iceman gli sarà uscita tutta la combo in mano ragazzi noi non abbiamo niente l'apretta ok va bene Medusa arriva Medusa con un bel 2-5 ragazzi Medusa ragazzi una grandissima carta eh ah comunque c'è un un bucio questo Medusa chi sta dicendo in questo campo ottiene più 3 nelle altre ok e Groot quindi Groot Wong White Tiger ok ok x23 Carnage perfetto ok ok allora Wong Wong dobbiamo capire ragazzi dove metterà Knull lui per metterci Shang-Chi se lui Knull lo mette a destra probabilmente sarà la nostra rovina vediamo Death ok gliela lasciamo lì Death ragazzi White Tiger White Tiger White Tiger Borg Polaris oh madonna santa ok 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 allora lui adesso mette Knull ok io la giocarei così io giocarei così allora allora ragioniamo perché qua è difficile questo quanto diventa? 2 4 6 2 4 6 2 4 6 12 12 13 quindi qua aspetta facciamo così bisogna vedere a quanto arriviamo così non ha senso pluggarmi però devo farlo per forza devo farlo per forza ragazzi Death Pool ma veramente ma veramente è eh eh Allora perché questa giocata ragazzi? Perché lui ha più 3 negli altri campi grazie a questo, lui metterà Knull qua Ok Non penso mai che lui metta Knull qua Però se lui mette Knull qua ragazzi ci inciappetta Eh però bisogna farlo ragazzi, bisogna andare bisogna rischiarsela E ha giocato Knull al centro E ha giocato Knull al centro ragazzi E ha giocato Knull al centro Andavo a mettere Shang-Chi al centro Ragazzi qua era un 50 e 50 Andavo a mettere Shang-Chi al centro E andavo a vincerla io Eh però come fai a saperlo? Eh va bene così Ho fatto una giocata un po' particolare Eh il tipo Non me l'aspettavo sinceramente al centro Non me l'aspettavo mai Eh però va bene così Va bene Allora La prima carta che giochi qui si sposta E ne non ci interessa Vediamo Secondo campo Le carte presenziate qui hanno più uno di forza Va bene E quindi Psylocke Molto bene Shocker Perfetto ragazzi Un altro Alto Evo Gli effetti a scoperta sono raddoppiati in questo campo Allora Wong E ovviamente ragazzi Lui qua ci mette Magic Ma non ci interessa Che comunque Wong diventa forte Quindi Wong Ironheart Ciclope Va bene Wong Ironheart White Tiger Odino Guarda Vorrei snappare Vediamo Quake Che schifo Va bene lo stesso Non è un problema Comunque Perché facciamo un sacco di punti uguale Non è un problema Yeah storm ragazzi Lo stormavo proprio Però non serviva a niente Siamo al quinto turno White Tiger Cagliera Ragazzi lui non ha aspettato Quindi non ha la doppia giocata Non ha la doppia giocata Ragazzi lui Oh io la snappo Cioè non penso che Eh esatto Penso che mai nella vita Si può battere una roba del genere Ragazzi Questa combo Peccato che non ve l'ha fatta vedere Perché questa combo È Incredibile Una combo Devastante Signori Una combo Devastante Va bene Ce ne facciamo un'altra Ce ne facciamo un'altra Comunque quella di Knull Vara bastava mettere Veramente Shang E andavi a vincere la partita Però è un 50 e 50 Lì Dove decide lui Il primo giocatore a mettere due carte qui Pesca una carta Ok Noi non abbiamo carte da giocare Ragazzi Ci manca Wong Aggiungi una carta casuale Nella mano di ogni giocatore Ok Ecco Wong E arriva Wong Signori Allora Vediamo un po' Le carte giocate qui Non vengono scoperte Fino alla fine della partita Allora Medusa Per forza Wave Arriva Wave Arriva Wave Arriva Wong Ok 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 Questo potrebbe essere un problema Ragazzi Questo potrebbe essere un vero problema Eh Wet Tiger Eh Questo potrebbe essere un vero problema Ragazzi Questo potrebbe essere un vero problema Che faccio Odino 2 4 6 2 4 6 12 13 16 Andiamo a pari qua Però ovviamente c'è Iron Heart Che si attiva due volte Qua andremo a contendere ancora Lui cosa mette Mette Un'altra carta costo Concea Carta continua Ragazzi Ragazzi Tutti Paura Tutti Paura di Odino Tutti Ragazzi Tutti Hanno Paura Di Odino Signori Io spero Che il video vi sia piaciuto Se fosse così Ragazzi Vi chiedo un bel like al video Un bel saluto al canale Se ancora non l'aveste fatto E andate subito a provare questo mazzo Perché è veramente incredibile Ragazzi Ci vediamo al prossimo appuntamento Con Marvel Snap Ciao signori Ciao signori